Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, sulla FIPILI rallentamenti per traffico intenso tra Livorno, Porto e Tirrenia in direzione Livorno, sulla statale 12 della Betone e del Brennero, traffico intenso tra Piagione e Bagni di Lucca in entrambe le direzioni, in a 12 controllo della velocità tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano, sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Monteriggioni e Siena in direzione Siena, sulla statale Trebis-Tiberina scambio di carreggiata per lavori tra Madonnuccia-Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Nord. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze e con questo è tutto, vi auguriamo un buon proseguimento di viaggio.